che la pace sia su tutti voi eccoci qua rieccoci qua a questo incontro qua questo nostro incontro sulla che state seguendo sia da dentro la nostra room di zoom anche sulla nostra pagina un azione per una comunità solidale il progetto UMA come vi ha ormai abituato in queste settimane a questo ciclo incontri che sono pensati soprattutto per la comunità sono dei cicli di incontri che abbiamo già cominciato nel mese di febbraio cercando di parlare delle sfide di essere genitore qui in Italia abbiamo parlato delle diversità delle famiglie interculturali sia con i servizi ma anche con le scuole abbiamo cercato di approfondire anche una tematica difficile come è stata quella della famiglia durante la pandemia abbiamo pensato e riflettuto su diversi riflessioni su come è possibile riuscire comunque a oltrepassare questo momento qua invece stasera siamo qui con voi siamo tra le vostre mani per poter parlare di cosa vuol dire essere giovane prima parlavamo con i genitori sulle sfide che possono magari approfondire invece oggi siamo qua per riuscire a raccontarci siamo quattro giovani quattro giovani che facciamo parte delle seconde generazioni siamo attivisti e attivi soprattutto in ambiti lavorativi e anche sociali diverse cercheremo di illustrarvi per esplorare anche le sfide che abbiamo avuto noi di crescere e facendo in modo anche di trasformare le sfide in delle opportunità sia di successo nel mondo del lavoro ma anche non sociale cercheremo attraverso le nostre storie attraverso il nostro vissuto di far comprendere o magari di cercare di spiegare o approfondire in modo molto più profondo cosa vuol dire essere di seconda generazione cercando anche di dare magari delle volte secondo le nostre esperienze degli strumenti per poter fare in modo di far sostenere i figli in maniera molto efficace e soprattutto costruttiva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh con noi le nostre amici attraverso le problemi o le problemi che vivono attraverso la corona oggi siamo quattro siamo quattro attraverso quattro attraverso 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 l'Italia e l'Italia. L'Italia e l'Italia e l'Italia. L'Italia e 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 l'It Grazie a tutti e a tutti i nostri esperimenti sulle diverse pagine Facebook che è ancora attivo il servizio Help Dad che è un servizio soprattutto per l'aiuto ai figli che hanno bisogno con i compiti a casa, è un supporto alla didattica, a distanza per i figli ed è anche un servizio di mediazione linguistica soprattutto per parlare con gli insegnanti dei figli che frequentano le scuole. Awood, قبل l'abitindare in questo l'abbare, a ricordare che c'è una Grazie a tutti Grazie mille vi ricordo che comunque tutto questo servizio è gratuito e potete riceverlo scrivendo un messaggio su Whatsapp al numero che vedete adesso sullo schermo ma anche mandando un messaggio direttamente alla nostra pagina UMA azione per una comunità solidale. Adesso lascerai la parola a Dalia Elbrashi, Dalia Elbrashi prego. Grazie mille. 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 delle seconde generazioni, dei giovani che sono cresciuti qua in Italia e che hanno vissuto tra due culture e che quindi hanno avuto un percorso diverso da quelli che i loro genitori hanno avuto. Sono giovani che sicuramente rispetto ai loro genitori magari hanno avuto degli aspetti inerenti alle condizioni di vita magari più favorevoli, però hanno avuto anche delle sfide che magari i genitori non hanno avuto. Ma prima di entrare in merito al discorso io vorrei chiedere ai nostri ospiti di presentarsi e di raccontare un po' di se stessi, che attività svolgono, di che origine sono e raccontare un po' di se stessi. Lascio la parola magari a Sara, Brinish, per presentarsi per prima e poi Wissam. Va bene. Buonasera a tutti. Buon ramadan se posso, perché mancano pochi giorni. Io sono Sara Brinicche, sono nata a Torino, da genitori di origine marocchina. C'è sempre fatto un legame molto forte con il Marocco, sono sempre comunque andata in Marocco durante tutta la mia infanzia, tutta la mia adolescenza. Sono una marketing specialist, mi occupo di comunicazione a livello professionale per un'azienda per chi lavoro, mi occupo tutta la visione di canali social, mi occupo appunto della strategia di comunicazione dell'azienda e faccio parte dell'associazione islamica delle Alpi da qualche anno e le giovani PSN. Quindi ho un lato a situazione, diciamo, abbastanza forte. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mi chiamo Wissam Zreg, sono nato a Torino. I miei genitori, quindi tia mamma e papà, provengono da una cittadina vicino a Tripoli, Libia, non Libano, che si è chiamata giurà e sono venuto in Italia fondamentalmente perché mio padre era stato mandato da una società libica a lavorare in Italia, invece mia mamma era una maestra della scuola primaria. Nella vita sono studiato giurisprudenza in Italia e nella vita sono avvocato, mi occupo di diritto penale, di diritto delle persone fragili, mi occupo tantissimo di migranti in diversi aspetti perché sono, credo, però su Ad, in Me Too, sono dei pochi avvocati che parlano arabo a Torino e forse nel Piemonte e quindi assisto diverse persone proveniente dal Nord Africa e dall'Ase occidentale, quello che viene chiamato il Vicino Oriente. Inoltre, oltre a fare l'avvocato, sono il mio ultimo anno, speriamo, di dottorato di ricerca in comparazione giuridica qui a Torino e in più collaboro sempre con l'Università di Torino in altri progetti che si occupano di far conoscere la realtà dei migranti in Italia. Questo progetto si chiama Prima ed è un progetto appunto molto interessante perché serve a smontare molti pregiudizi che la società italiana ha nei confronti dei migranti e anche dei figli dei migranti che comunque continuano, come vedremo più avanti nella nostra chiacchierata, ad avere delle delle limitazioni e comunque delle delle discriminazioni. Traduci tu su Ad o devo tradurre io? Vai tu, vai tu. Faccio io. Forse sei più bravo tu, sai, perché visto che tu parli perfetto arabo standard. Sì, così facciamo vedere anche che comunque ci sono anche diverse seconde generazioni di origine arabofona che mantengono ancora l'arabo. Sì, grazie a tutti. Sì, grazie a tutti. non si sapevo parlare molto bene la lingua l'Italiana quindi questo è necessario di un amico che si sapevano con le problemi e ho studiato in un anno in Torino e ho studiato anche un programma in Torino per farlo di dare una scuola c'è una storia reale e non c'è una storia reale 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 ero l'unico di origine araba delle scuole elementari dove andavo. Lo so di per certo perché mi ero informato ma poi semplicemente mi ricordo che mia mamma era l'unica con il velo che veniva a prendermi davanti alla scuola e mi ricordo che per me è stata un'esperienza abbastanza impressionante perché quando non vedi nessuno come te, tra virgolette, non vedi altre donne velate, non vedi altri ragazzi e ragazze che provengono dalla tua stessa parte, ti senti un po' alieno. Infatti io all'inizio ero un po', non dico imbarazzato, però mi chiedevo ma come mai sono tutte senza il velo e sei l'unica che invece viene a prendermi con il velo. In realtà non posso neanche dire che la società di allora fosse una società razzista, ovvero non c'erano ancora le ondate migratorie che abbiamo adesso, non c'era ancora soprattutto l'ondata di gente proveniente dal Marocco perché è stata la prima grande ondata di arabi in Italia e quindi diciamo che certi argomenti, certi discorsi in allora non si sentivano, non c'erano, non si sentiva ad esempio parlare male del marocchino, dico marocchino perché fondamentalmente in Italia se sei arabo sei sempre marocchino fondamentalmente. Si sente bene? Ok, benissimo. E quindi devo dire la verità che fino alle medie, anzi fino alle superiori, non ho mai avuto il contatto con l'esperienza dell'essere diverso, che nessuno mi aveva mai fatto sentire diverso. Ero io che però lo sapevo, nel senso che appunto mia mamma aveva il velo, io da bambino facevo due scuole perché andavo per permettermi di parlare anche arabo, frequentavo sia una scuola italiana ma anche una scuola libica di Milano perché a Torino forse in allora non c'era ancora la scuola egiziana, non lo so, dimmi tu Dalia che saprai meglio di me. Non c'era, vero? Ecco e quindi allora l'unica possibilità che era data a un figlio di un arabo era quella di andare alla scuola libica di Milano, poi a noi andava anche bene perché era anche la scuola del paese di origine dei miei genitori. Quindi in realtà le sfide non erano dovute tanto alla società esterna ma erano dovute a me in quanto diverso, in quanto appartenente a due mondi. E poi qui mi ricollegherei al discorso della giornata, nel senso che essere figlio di genitori che appartengono ad un'altra società, ad un altro mondo, ancorché i miei genitori mi hanno sempre lasciato molto libera di essere quello che voglio, però c'era una forte preoccupazione nel vedermi diventare troppo italiano, che poi bisogna capire cosa significa essere troppo italiani, troppo occidentali, il fatto di perdere il legame con le proprie origini. E io quello che in allora non riuscivo a dire correttamente, perché finché si adolescenti è anche difficile esprimere i propri sentimenti, soprattutto con i genitori, era mamma e papà, ma io non è che sono troppo italiano o non è che io non sono più libico, io sono un qualcosa di nuovo, siamo una generazione ponte, perché noi rappresentiamo una novità, abbiamo sia la parte italiana occidentale, ma anche la parte araba, nel mio caso libica, quindi siamo un qualcosa di più, un qualcosa che però non deve spaventarti, parlo metaforicamente alla madre o al padre, ma un qualcosa di cui in realtà devi essere orgoglioso, perché comunque noi siamo un arricchimento sia per la società che ci ospita, in questo caso la società italiana, ma anche l'altra società con cui potremmo avere un legame, quindi siamo un arricchimento, nel mio caso per la comunità, per la società libica, nel mio caso per quella egiziana e negli altri per quella marocchina, eccetera, eccetera, eccetera. Questo punto qua secondo me è il punto meno, forse meno capito dai genitori, cioè meno sentito più che capito, perché secondo me c'è proprio la paura che i propri figli perdano qualcosa. In realtà noi non perdiamo, noi aumentiamo, accresciamo questo qualcosa, quindi anche parlando con altri genitori che si trovano soprattutto della generazione di mia mamma e di mio padre, spesso io faccio questo discorso, adesso che sono preoccupati, spesso si sentono, forse ad averte sentito anche voi, adesso porto mio figlio in Egitto, porto mio figlio in Tunisia, che almeno lì cresce con i nostri valori. Io dico no, perché comunque noi cresciamo già con certe tipologie di valori, ma addirittura con una parte arricchente, una parte che ci rende anche migliori e che ci rende appunto dei ponti tra le nostre due culture. Tra l'altro, come diciamo spesso almeno in Libia, peraltro la società italiana, la cultura italiana da un certo punto di vista non è neanche così tanto diversa da quelle dell'altra parte del Mediterraneo, voglio dire. Quindi c'è anche da un certo punto di vista una somiglianza, una comunanza, che secondo me è opportuno valorizzare, far rilevare. Poi io credo, Dalia, che le altre cose potrei dirle dopo, giusto per non monopolizzare e comunque per rendere anche più interattiva. Ovviamente se ci sono domande, curiosità, se si vogliono traduzioni live, insomma prendete pure parola. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, 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 gra l'ahirà, il mese non c'è un'immagine o un'immagine di un'immagine perché non c'è un'immagine molto di un'immagine e soprattutto i'immagine i'immagine o l'immagine per la prima volta per la prima volta all'indagine l'Italia non c'è nessuno che mi haccano o che mi haccano con la prima volta l'immagine l'immagine Quindi كنت أذهب إلى مدرسة عربية إلى ميلانو من أجل دراسة اللغة العربية وكنت جد سعيد لأن أصلا كانت مدرسة عربية وكانت أصلا مدرسة ليبية وهي أصلا من أصولي أما بالنسبة عن التحديات التي كان أو عاشها ويسام لأنه من جذور أو أصول تانية كانت تخوف العائلة من فقدان الرابط مع التقافة الأم ويسام حاول أيضا أن يذكرنا أن هذا الجيل هو جيل كالجسر جسر بين التقافات يعني لا يجب أن يكون الخوف من هذا الانطباع بل هو ثروة سواء في إيطاليا أو في البلدان الأصل تحدث لنا أيضا أنه لا نخسر ولا نفقد أصولنا بل نحن تروى وجسر بين التقافات وذكرنا أيضا أن التقافة الإيطالية أصلا هي شبيهة أو قريبة من تقافات شمال أفريقيا لذلك يجب أن نحاول التأقلم أو أصلا المعايشة أكتر شكرا ويسام يعني والله كلام اللي المحامي وأستاذ ويسام اتكلم عنه ده بيفكرني كمان بقد إيه سن المراهقة بالنسبة لكل الشباب عمتا هو السن اللي بيتبانى فيه الهوية يعني إيه بيتبانى فيه الهوية يعني هو السن اللي إحنا بنقرر إيه هتكون شخصيتنا إيه هيكون فكرنا إيه هتكون طموحاتنا وعايزين نكون إيه في حياتنا لكن بالنسبة للشباب الجيل التاني اللي بيتربى وسط ثقافتين بناية الهوية ده بيبقى صعب وبنتكلم يعني كاتب جربة شخصية الموضوع بيبقى صعب لأنه بيبقى فيه ضغوط اجتماعية إحنا بنبقى متعرضين ليها وبتبقى في اتجاهات عكسية يعني من ناحية فيه المجتمع الإيطالي بيشد المراهق إن يكون شبهه ويكون نفس اسلوبه وتفكيره خوفا من الاختلاف خوفا من إحنا نبانى مختلفين أو نبانى إن إحنا متهضين بسبب إختلافنا إحنا بنتكلم يعني عن طريقة شخصية بالنسبة للبنت المسلمة مثلا ارتداء الحجاب بيبقى قرار صعب لأن بتبقى خايفة الأصدقاء هيبقوا صولي إزاي المدرسين في المدرسة هيبقوا صولي إزاي ومن ناحية أخرى كذلك برضو الأهالي في البيت بيكونوا وضعين برضو ضغط على الأبناء إنه الأهالي طبعا حبين يكونوا أولادهم شبههم في الفكر وفي العداد وفي القيم حبين أن يكون أولادهم يعني نجحين في المجتمع الإيطالي من ناحية الدراسية ومن ناحية العملية ولكن بكل المعايير المصرية مثلا أو المغربية وهكذا لذلك يعني في دايما صراع ما بين الأجيال في ثقافات معينة بسبب مثلا أنه يتخص مثلا اختيار شريك الحياة يعني بالنسبة للثقافة العربية الجواز بيبقى ما بين العقلات مش ما بين الأشخاص فبالتالي بيبقى قرار متخذ بمشاركة الكل وبيتبقى المعايير كمان تبقى أول معايير بيبصوا ليها مثلا هو العيلة ومكانة العيلة وظروف العيلة وهكذا أما بالنسبة للشاب اللي تولد هنا وقترب هنا وتأثر كمان بالثقافة الغربية الزواج بيبقى مثلا هو اختيار ما بين شخصين فأنا بالنسبة لي الأولى فكر الشخص ده التوافق الفكري أو التوافق في الشخصي وتلاقي فيه سراعات ما بين أجيال كذلك في اختيار الشغل وفي الدراسة كل الأهالي العرب حابين أولادهم يكونوا أطباء أو مهندسين لكن بتلاقي الأبن بيقول أنا مثلا يعني بميل لتخصص ثاني وبميل لاختيار ثاني وحابب أن أنا كنا متميز حتى في التخصص اللي أنا حبه يعني فهنا بتلاقي أنه فيه يعني فعلا الشاب ما بيبقاش عارف إيه يختار إيه من كل ثقافة وإزاي يحط يعني الطلبات العكسة بعض دي مع بعض إزاي إن أنا أقدر ألاقي ما بين اللي المجتمع الإطلالي بيطلبه مني والأسرة والعائلة بتطلبه مني وده بيخلي إنه فعلا مرحلة المراحقة هي مرحلة ساعات بيبقى يعني الإبن بيبقى في النص ساعات بيبقى كمان إحنا بنسميها في علم النفس متعلق Non so come ho trovato l'attaccato Noi oggi, in un'insha allò, con la direzione dell'adio di Diofna al-Quram voglio dire che il mercato che si è arrivato a questa scoppa dopo questa scoppa è una scoppa che potrebbe essere giusti, potrebbe essere giusti, potrebbe essere giusti giusti tra le stoccofate diverse potrebbe essere potente di farlo e di farlo e di farlo e di farlo e di farlo che ci sono le cose che sono presenti nel mese dell'Italia che è anche che ci sono dedicati a fare delle qualità islamiche e delle qualità islamiche e delle qualità e delle qualità come noi tutti noi facciamo fare io sono in un'edore di dottor, sono in un'edore di S'u'ad, in un'edore di un'edore di un'edore e anche la possibilità di parlare di un'edore di un'edore che manca tolì dottorolta e dìm sora mu maiazza usali ma anche l'islam lì al ghiat e tolìa o stessa sarà cammin che ha lasciato ha ammela ho lasciato ha cammin fi al mu'assassate il sabbia brevemente faccio una traduzione in italiano perché dicevo appunto che le parole di uistame mi fanno venire in mente quanto l'adolescenza di fatto rappresenti un periodo di diciamo abbastanza critico nella fase di un adolescente di seconda genere di un adolescente figlio di immigrati questo perché di fatto durante l'adolescenza per tutti e la fase in cui si viene costruita l'identità si costruisce l'identità per i ragazzi e le ragazze che sono in mezzo a due culture diverse questo passaggio è molto complicato e difficile perché devono diciamo conciliare richieste opposte da una parte quella della società italiana dall'altra quella dei genitori e questa fase però è oggi quello di cui vorremmo parlare e come è possibile che come questa fase sia normale sia diciamo un passaggio obbligato e che però porta diciamo se i genitori e la società riesce a dare il giusto sostegno a permettere a questi ragazzi di diventare appunto una generazione ponte una generazione che può mettere insieme diversi aspetti positivi di tutte le culture creare la loro sintesi e poter fornire come oggi tutti noi stiamo facendo nelle nostre vite nelle nostre professioni un contributo aggiuntivo un valore aggiunto sia alla società italiana sia alla comunità con le nostre istituzione e alla società italiana sia alla società italiana sia alla società italiana e il muslima fi etol. Appunto, volevo sentire un po' anche da parte di Sara e Suad le loro esperienze, come loro stesse sono delle generazioni ponte che cercano di avere un ruolo attivo sia all'interno della società italiana sia all'interno della comunità musulmana. Prego Sara. Però non prego Suad. Allora, diciamo che generazione ponte corrisponde effettivamente al cento per cento a quello che siamo noi come seconda generazione. Perché come ha detto Winston, come ha detto anche tu Dalia, siamo in mezzo, come in mezzo tra due mondi che a volte sono molto simili culturalmente, magari anche nella vita quotidiana, ma a volte sono anche molto lontani. Però tu sei in mezzo, quindi diciamo che le difficoltà sono sempre, magari a volte sono piccole, a volte sono grandi, a volte sono difficoltà anche linguistiche. Ad esempio, il mio contributo di cittadino italiano nella mia famiglia è stato quello che da piccola ho sempre compilato io i documenti istituzionali per i miei genitori, ad esempio. Mi ricordo dieci anni a compilare i documenti per l'ISE, perché appunto i miei genitori non riuscivano o non sapevano termini tecnici piuttosto che termini ufficiali. Quindi questo non finisce neanche adesso che ne ho 27 anni, è una procedura ufficiale qua in casa. Però invece il contributo che dà la comunità italiana di cui ti senti parte è il fatto che come persona araba, soprattutto se sei una ragazza con Kizer, sia un simbolo, perché tutti ti riconoscono subito, è come se avessi una lente di ingrandimento addosso. Quindi diciamo che i tuoi comportamenti proprio come persona, già quelli sono un esempio da dare. Poi ovviamente essere cittadini attivi è un dovere. Il fatto che magari siamo generazione ponte non è assolutamente una scusante adempiere dei compiti che qualsiasi cittadino ha, banalmente dall'andare a votare piuttosto che anche essere cittadino attivo tramite associazione, tramite volontariato. Quelli sono compiti per la comunità che da cittadini di origine straniera, nati in Italia, eccetera, abbiamo per il nostro Stato. Però sei sempre a metà, quindi hai la difficoltà che quando sei in Italia a volte viene riconosciuta come la straniera, oppure nel mio caso la marocchina. Poi però vai in Marocco e viene riconosciuta come l'italiana. Quindi dici sì, ma io dove mi trovo? E come hai detto tu, Belia, per un ragazzino di 13-14 anni non è facile questo da capire. Lo capisci solo quando cresci, quando maturi, quindi quando studi, quando ti confronti con altre persone che hanno avuto la tua stessa esperienza, che dici, ah, loro non sono l'unica, ci sono altre persone come me. Quindi bisogna sempre misurare, perché come ho detto, siamo qualcosa di nuovo. I nostri genitori non hanno avuto la stessa esperienza che hanno avuto noi, le stesse sfide. Quindi devi dare il contributo alla comunità italiana, perché tu sei italiana. Però devi anche dare il contributo alla comunità musulmana, alla comunità araba, ovvero aiutando magari le persone in difficoltà. Quello che sta facendo un po' un ma in questo momento, quante persone magari soprattutto con questa pandemia si sono trovate in difficoltà per i compiti, ad esempio, o per la comunicazione con i propri figli, la comunicazione con le scuole. Questo è un compito da cittadino che ha alle sue spalle un bagaglio molto importante. Mi fermo qua così potete tradurre. Grazie. Grazie a tutti. 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 tutti tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. ride a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. cioè addirittura se questa persona è donna e se questa donna porta anche un hijab, le possibilità si riducono ancora di più, salvo pochissimi casi in cui quella donna diventa tra virgolette interessante perché è un caso più unico che raro, le donne con un velo hanno più problemi. E una volta, mi piace raccontare di questa vicenda perché una volta con un mio collega, perché insomma non l'ho seguita solo io, difendevamo questa ragazza che era stata assunta, anche lei una seconda generazione, una ragazza tunisina, italo-tunisina anzi, che a un certo punto aveva deciso di indossare il velo, aveva deciso di fare questa scelta, forse non era neanche religiosa, non lo so. Comunque sta di fatto che il datore di lavoro, per quella che viene chiamata dress policy, gli aveva detto che non poteva più andare bene per il posto in cui lei lavorava e quindi l'aveva lasciata a casa. Questo meccanismo qua, peraltro, non è isolato, nel senso che ci sono diversi casi, ma in tutta Europa, di donne che o non vengono prese e in quel caso non ci si può fare niente perché ovviamente nessun datore di lavoro ti dice io non ti prendo perché hai il velo. E quindi là diventa difficile anche andare davanti a un giudice, ma quando invece tu non ce l'hai, lo indossi e ti dicono noi non ti vogliamo più perché il velo a noi non ci piace, allora lì sì che si può andare davanti a un giudice e dire io ho il velo, ma comunque sono una cittadina italiana, sono una persona che lavora, non cambia niente da come ero prima a come era adesso, non mi puoi licenziare perché ho fatto una scelta culturale, religiosa, qualunque scelta essa sia. Questo processo, peraltro, sta andando bene, quindi la ragazza è stata reintegrata, anche se lei non vuole più andare nel posto da cui giustamente si è sentita tradita perché, come dice lei, io sono sempre stata la stessa persona, quindi non capisco perché hanno dovuto chiedermi di non venire più in questo, insomma di continuare la mia attività lavorativa, però secondo me è emblematica, proprio dal punto di vista anche plastico, delle difficoltà che possiamo avere. Tante poi sono i problemi dovuti proprio all'assunzione, sempre per rimanere in tema di lavoro perché è uno dei temi più caldi probabilmente. Io mi ricordo quando lavoravo in un'organizzazione internazionale, che quindi tutto il personale fondamentalmente non era italiano, mi ricordo che una ragazza, una funzionare, mi aveva detto, Wissam, guarda che in Italia ci sarà sempre, la parola è proprio in inglese, un cristal feeling, cioè un soffitto di cristallo, c'è un punto sopra il quale se sei figlio di stranieri non puoi andare. Non è che c'è qualche legge ovviamente o qualche norma, ma semplicemente sono pregiudizi, barriere, discriminazioni, il colore della pelle che ci impedisce di raggiungere certe posizioni. E in questo emblematico, ad esempio, anche in città come Milano, perché oggi ho fatto, come tu Dalia sai, un altro corso, e la professoressa diceva che a Milano, pur essendo una città più cosmopolite d'Italia, una delle più cosmopolite d'Europa, le seconde generazioni fanno ancora difficoltà ad accedere a certe tipologie di posizioni. Quindi i genitori di noi, appunto, che nasciamo, cresciamo in Italia, devono sapere che oltre alle tante difficoltà che abbiamo, c'è quest'ulteriore difficoltà, che non è da poco, perché spesso i genitori pensano che, appunto, non capiscono come mai ci siano ulteriori problemi, visto che noi siamo nati qua, abbiamo studiato qua e parliamo italiano. E questo secondo me deve essere ben chiaro loro. Non so se Dalia mi è concesso, devo parlare anche dell'altra questione che riguarda soprattutto i temi di genere, oppure ne parliamo sempre dopo? Sì, magari lasciamo spazio per la traduzione. Ok. Non so, però, ok, ci sei su ade per la traduzione? No, ovviamente. Ok. Ok. quando c'è un nome come Mحمed o Abdullah, è difficile trovare l'amore, quando c'è un'amore e un'amore, questo è difficile. in questo momento il mese ha anche parlato di la città della città che si è lavorato in un momento e dopo anni si è riuscita a cercare ma la città della città con la città della città perché non è vero la città o come è che deve essere in una città Wissam قال che la chaggia non è possibile essere una cosa o la tranne che ha detto anche che è stato il rischio in cui è stato in cui è stato la chaggia di qualsiasi la chaggia di rivoluzione alla lavoro perché è stato e dice che è stato la chaggia perché è stato la chaggia di lavoro e non è arrivato a lavorare in questo senso. Abbiamo parlato anche di quanto riguarda i tempi, che lui è stato lavorato in un pubblico mondiale, e c'è una città di giovani. Abbiamo parlato anche di quanto riguarda l'Italia, la città della città della città della città della città, o il Thakafo l'Om è un problema anche per il tema del lavoro per esempio oggi Wiesam è qui con il lavoro con la costa di Milano e con la costa di Milano e ha detto che Milano è una mese ma è un'edice quindi ci sono problemi più proie per i bambini per il lavoro di riuscire o che si riuscili i miei 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 e mi ricorda che hanno bisogno di capire e di capire le difficoltà che vivono con i miei amici, anche per il risultato dell'administrazione e anche per il risultato dell'administrazione. quindi le daman ha quuk akser li l'aqolliyat o minnha taban ixna ka muslimin o kedalik bardu kunti ahabba ixni taallik minnek ixni an makalu ixni e proprio prima di proseguire un po con i nostri ospiti e farci raccontare quali sono le altre sfide che le seconde generazioni spesso devono affrontare volevo proprio sentire da suad che tra l'altro è molto attiva nel sul tema dei diritti delle minoranze tra cui quindi anche quella musulmana e ha partecipato a numerose iniziative in tal senso prego svae grazie belli e grazie mille si praticamente mi viene un po più difficile parlare di me stessa comunque si già ho cominciato a lavorare nell'ambito del between come abbiamo detto ancora quasi quindici anni fa come avevo detto sara noi siamo anche la generazione che ha dovuto traghettare i genitori nel senso eravamo noi la loro la loro lingua eravamo noi che dovevamo comunque gestire la parte burocratica e la compilazione dei documenti le famose file alle cinque di mattina davanti alle questure e quindi abbiamo vissuto con loro queste questa discriminazione se possiamo chiamarla così e ci siamo sentiti delle volte quasi a omettere delle frasi che venivano dette ai nostri genitori per non magari non farli star male perché eravamo noi i loro interpreti eravamo noi a captare delle volte o a comprendere quella sottilezza che c'è tra le due culture e quindi tutto questo l'abbiamo vissuto proprio in prima persona perché facciamo anche parte del cosiddetto seconde generazioni non mi piace la parola però comunque siamo quella generazione che ha vissuto con i genitori che comunque hanno un'altra cultura un altro modo di pensare e ci siamo imbattuti nella cultura italiana in primis con dei genitori che non avevano eh questi eh grandissime risorse e per questo comunque siamo qui all'interno di un ciclo di incontri che cerca di eh semplificare e facilitare ai genitori questo qua negli anni novanta non c'era eh come Wissam io eh sono nata in Marocco ma sono arrivata in Italia che eh avevo otto anni e quindi eh ancora nel lontano novantaquattro quindi quando le l'immigrazione non era ancora eh conosciuta anzi eravamo ancora molto privilegiati perché non c'era razzismo non c'era ancora eh questi discriminazioni eh eravamo con loro che bisognava aiutare e e allora cioè questo non lo vivevamo diciamo che ehm come esperienza lavorativa come donna come mamma come formatrice come eh una donna che cerca di essere attivista e lavorare eh per una società molto inclusiva eh posso dire che ehm nonostante che avessimo fatto tanto c'è ancora molto da fare eh le problematiche di discriminazione sul lavoro esistono ancora purtroppo e questo non è solo un problema eh per eh le velate come diceva anche prima Wissam il problema delle volte è anche verso eh il sesso maschile e quindi anche uno che si chiama Abdullah o uno che si chiama Mohammed o uno che ha una barba eh accentuata e e e questo l'abbiamo vissuto tutti eh non solo dopo l'undici dopo il famoso undici settembre perché eh c'è stata proprio quasi una caccia al musulmano no? Musulmano barra musulmana eh ci siamo trovati eh quasi a dover sempre difendere le nostre origini a dover difendere le origini dei nostri genitori a dover giustificare le nostre scelte perché parliamo anche di scelte persone personali come quella di portare la hijab che è una scelta strettamente personale e di un percorso di spiritualità e invece ci troviamo a doverla vivere in modo abbastanza difficile che nonostante eh ci troviamo comunque in un paese di di libertà cioè l'articolo dieciotto e su questo magari Wissam ci può dire è molto chiaro al riguardo cioè il fatto che ognuno di noi ha una libertà eh eh personale per il suo eh orientamento religioso questo è eh è proprio molto eh mi spiace e a malincuore mi spiace dirlo però dall'altra parte siamo comunque riusciti ad arrivare e ad avere veramente molta eh ci abbiamo fatto diciamo molta strada al riguardo perché ehm anche cioè tipo conviene a pensare all'esempio della fondazione Mamre eh sul fatto anche che ci siano dei percorsi dei supporti psicologici che possono anche ehm avere eh a riguardo e essere anche sensibili nei confronti delle culture di origine dei utenti questo è un grande successo sicuramente la strada ancora da fare è molto lunga però eh credo che ehm serve soprattutto per farci conoscere far conoscere eh chi siamo e soprattutto cosa siamo mi è piaciuta molto la parola prima che aveva detto Wissam mi sentivo un alieno no? Siamo quasi degli alieni e quindi ehm il dovere iniziale è quello di conoscerci però eh la conoscenza dovrebbe essere anche reciproca nel senso che noi ci stiamo mettendo in prima persona a farci conoscere a spiegare cosa vuol dire appartenere a due culture diverse comunque ne abbiamo sempre detto in questi incontri le nostre identità sono identità multiple siamo veramente eh di cultura non solo di due culture ma di cinquantamila culture diverse siamo giovani siamo mamme siamo figli siamo genitori siamo musulmani siamo di cultura eh italiana piemontese veneta eccetera eccetera però siamo eh anche delle persone vogliamo farci conoscere ma pretendiamo anche che veniamo ascoltati perché se siamo qui per farci conoscere dobbiamo anche eh avere la pretesa che eh ah 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 ajoni sì eh sori eh hatta Forgive senti eh amb anicazza ah 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 Worlds fino al primo, noi siamo, quello che si troviamo nel giro, che si troviamo attraverso un attraverso un attraverso un attraverso un attraverso un attraverso un attraverso. E' un attraverso 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 un di mese poveri in scopriere per caso di atteggiare per caso di atteggiare questo gioco che si è stato il gioco gioco una scopra stiamo il gioco anche se io non ho la gente il gioco perché siamo gioco gioco ozol agnabia ma ma siamo cериoli con tutti il gioco l'Italia La città è Sera. grazie a tutti 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 e questo grazie a tutti 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 grazie a tutti